Adesso è ufficiale. Le misure attualmente in vigore sono prorogate fino al 13 aprile, ma al di là della ufficialità e dei decreti è ormai chiaro che molto difficilmente la scuola riprenderà prima di maggio e non a caso al Ministero stanno già lavorando per trovare una via d'uscita in modo da garantire almeno lo svolgimento degli esami di Stato. Anche nell'incontro svoltosi nella mattinata del primo aprile tra Ministra e sindacati se n'è accennato, ma senza arrivare ad una conclusione. Per la verità è già da diversi giorni che la Ministra Zolina ripete che a questo punto per sistemare tutti i problemi in sospeso è necessario un provvedimento di legge. Nelle ultime ore si è diffusa anzi la notizia che proprio nella giornata di venerdì il Consiglio dei Ministri approverà un nuovo decreto legge che conterrà misure sulla scuola e con ogni probabilità fra queste ci saranno anche quelle sugli esami di Stato. In sintesi le possibilità sono due. La prima una sola prova nazionale italiano, una prova di indirizzo predisposta dalla Commissione e una prova orale. Oppure, seconda possibilità, nessuna prova scritta, una sola prova orale. Tutto dipenderà anche dal parere degli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità. In vista della decisione del Governo, Toccafondi di Italia Viva ha già detto che la maturità va difesa ad ogni costo, che l'esame di terza media è altrettanto importante, così come è importante prevedere la valutazione del percorso scolastico usando buon senso e ragionevolezza. Toccafondi sottolinea che non si tratta di difendere un totem, un principio o un percorso burocratico, ma un passaggio educativo e formativo fondamentale della scuola. E non è a caso, aggiunge ancora Toccafondi, che quello delle superiori tutti continuiamo a chiamarlo maturità proprio perché rappresenta un momento cruciale nella crescita dei nostri ragazzi. La rete degli studenti invece fa pressione sul Governo affinché tutti gli studenti vengano ammessi all'esame di Stato anche con debiti. Nel caso in cui non si dovesse rientrare a maggio, aggiunge la rete, sarà inevitabile rimuovere le prove scritte per mantenere soltanto l'orale. Sulla necessità di un decreto legge che modifichi il decreto legislativo 62 del 2017, stanno insistendo un po' tutti, anche il Partito Socialista, che nelle ultime ore ha chiesto che le prove d'esame si svolgano esclusivamente con la sessione orale. Ciò permetterebbe di svolgere gli esami in sicurezza garantendo agli alunni e alle loro famiglie la dovuta tranquillità. Va comunque detto che nell'incontro con la Ministra tutti i sindacati, seppure con sfumature diverse, hanno sottolineato la necessità che agli alunni venga garantita una valutazione che non faccia perdere a nessuno l'anno scolastico, con la possibilità di recuperare nel prossimo anno eventuali debiti o lacune. Per gli esami di Stato, ha poi sostenuto la FLC-CGL, vanno previste prove semplificate ma da cui va escluso ogni obbligo relativo a prove invalsi e PCTO, cioè l'alternanza scuola-lavoro. Adesso non resta che attendere le decisioni del governo che dovrebbero arrivare, come detto, nella giornata di venerdì. Sul tema ovviamente noi continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Seguiteci ma soprattutto scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, i vostri suggerimenti, i vostri commenti, noi ne daremo conto come sempre. Grazie a tutti.